E' stato presentato nella libreria Colacchi il libro ad alta voce del giornalista Massimo Mapelli, giornalista di La Sette. Allora Massimo, questo libro tu l'hai definito autobiografico ma non autoreferenziale. Che significa? Un tentativo di raccontare i grandi cambiamenti che ci sono nella nostra professione, traendo spunto dai grandi fatti di cui ho avuto la fortuna di occuparmi in tutti questi 30 anni. Diciamo che l'aspetto autobiografico è un po' una sorta di espediente per arrivare al racconto di tutto questo. In questo libro Massimo tu racconti molte due esperienze, 30 anni sono tanti ma ce ne hai davanti ancora molti. E racconti in un capitolo, in un ampio capitolo anche la tua esperienza del terremoto dell'Aquila. Un'esperienza che è stata tra le più significative in assoluto della mia vita di inviato, della mia vita professionale, perché è durata per quattro mesi, perché mi ha consentito di raccontare sotto l'aspetto della cronaca i primi momenti, le prime difficoltà che c'erano negli attimi drammatici delle prime ore e poi di seguire tutto quanto lo sviluppo giudiziario, lo sviluppo anche politico fino al G8, di ciò che ha comportato per l'Aquila tutta la vicenda del sisma. Massimo, quanto conta nel lavoro di giornalista la professionalità ma anche le emozioni? Le emozioni sono fondamentali, dobbiamo averle perché siamo umani, però io credo in un giornalismo che perlomeno come obiettivo e non come presupposto prova ad essere obiettivo e a separare i fatti dalle opinioni e a separare il ruolo del giornalista rispetto a quello dei fatti e dei personaggi che si trova a incontrare.